Ci troviamo qui all'Argione Calabria e ne approfittiamo per richiedere a Arturo Bova, presidente della commissione contro l'Andrangheta, sull'ultima operazione di Gratteri. Diciamo che Gratteri va ancora a segno. Non lo devo dire io, chi sia il dottor Gratteri, quale sia lo spirito che lo anima, qual è l'azione che mette in campo quotidianamente, non da oggi. Non per niente oggi possiamo dire che fosse il magistrato più conosciuto al mondo, più famoso al mondo. Non certo solo per i libri che scrive, per le operazioni, ma proprio per la tenacia con cui persegue i suoi risultati. Continua ed era quello che ci aspettava. Comunque guardi, proprio Vantieri c'è stata la manifestazione a Squillace e Lido di solidarietà e comunque di protesta. Quando diceva Squillace non molla, non cede, dopo l'incendio di un Lido, che è seguito dopo due mesi ad un incendio di un ristorante. Se c'è una diafrodite, Lido disse, perché l'operazione condotta stamane ad Isola Caporizzuto, Cranarene, eccetera, però ha colpito anche alcune, quelle che vengono ritenute alcuni appendici di quella consorteria operante in queste zone e in questo territorio. Un'operazione importantissima che ancora di più non solo sottolinea l'operato delle forze dell'ordine e della magistratura, ma che ridà fiducia pure ai cittadini. Guardi, erano anni che in un certo territorio non si vedeva un'operazione di antimafia. Vuol dire che ci si sta lavorando, vuol dire che l'arrivo di Gratteri ha modificato parecchie cose. Poi lasciatemelo fare una considerazione. Io ricordo quando il giorno dell'insediamento del dottor Gratteri, lo stesso, disse, ebbe modo di fare un'affermazione molto importante, voi la definite pesante, io la definisco importante, qualcuno potrebbe dire molto grave pure, quando ebbe modo di dire, io ero presente, l'ho ascoltato con le mie orecchie, che qualcuno all'interno anche della magistratura probabilmente non aveva visto di buon occhio l'arrivo del dottor Gratteri a Catanzaro. Tant'è vero lui in maniera sibilina, dice, guardate che io vengo già qua da circa un anno, sto venendo a sondare il campo e a preparare i lavori. Guardi, sono quelle dichiarazioni che purtroppo a me e io non capisco come vengono messe a tacere. In altri posti probabilmente, o in altre epoche forse, avrebbero scatenato chissà che cosa, anche perché le pronunce a Gratteri, attenzione, non erano rivolte all'esterno, erano rivolte all'interno. Perché poi, parliamoci chiaro, se i risultati nei confronti della criminalità organizzata non sono stati raggiunti in determinate aree, vuol dire pure che era deputato però ad investigare. Ora, non credo che Gratteri abbia quattro occhi e quattro orecchie e qualcun altro ne abbia uno, un occhio o un orecchio solo, insomma, è da vedere. In questo anche la politica, purtroppo, assunzione di responsabilità, me la faccia fare, la politica attaciuto e a quelle dichiarazioni molto gravi, così come penso alla dichiarazione per quanto riguardava l'affrancazione dell'ex ospedale militare dagli usicivici per adibirlo a sede della nuova procura della Repubblica. Anche lì il dottor Gratteri disse che voleva sapere o voleva conoscere, l'avrebbe chiesto al Presidente di presentagli, il collega che da anni non affrancava, non firmava il documento per togliere questi usicivici. Sono di quelle... e poi arriveremo ad altri siti, ad altri livelli di interesse. Quando qualcuno, in maniera certo non sprovveduta, quando il sottoscritto parlava, attenzione degli intrecci tra politica, mafia e massoneria deviata, anzi, mi faccia cogliere l'occasione, non ho attaccato la massoneria, a prescindere che non la condivido, non è una mia... ma non ho attaccato la massoneria, ci sono oltre molti amici, ma ci sono attività molto importanti. Si è parlato di intreccio, così come di politica, non si parla della politica buona, si parla di una politica deviata, ma questi sono i grandi livelli. Mi auguro che al dottor Gratteri, vabbè che non lo ferma nessuno perché è un caterpillar, lo conosciamo tutti ed è importante perché riesce anche ad animare, a dare entusiasmo ai suoi subalterni, alla Polizia Giudiziaria, a chi lavora con Gratteri, perché vede i risultati, non vede che i risultati, tanti anni di indagine, vengono poi sviliti dalla mancata adozione di provvedimenti per caviglio o caviglioci. Bene, questa è la strada che si sta perseguendo, un altro tassello importante, quindi diciamolo tutti, benvenga un altro Gratteri e lunga vita a Gratteri.